al nome del Signore. Leggiamo, fratelli, in Primo Re, capitolo 19, leggiamo dal primo verso un brano che conosciamo bene. Primo Re, 19, dal primo verso, dice così, la parola del Signore. Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli, gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della tua vita quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Ber Sheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo basta, prendi la mia anima, signore, perché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve. Poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve. E per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò quaranta giorni e quaranta notti fino a Oreb, il monte di Dio. Fin qui la parola del Signore. Un brano che conosciamo, fratelli, un brano che abbiamo letto. Tante volte ci parla di questo uomo di Dio che Dio usa in un modo veramente speciale, forte. È uno strumento nelle mani di Dio usato con potenza. Possiamo leggere nei capitoli prima quando Dio lo chiama, entra in scena quest'uomo di Dio che attraverso la sua strumentalità Dio potrà usarsi della sua vita in favore del suo popolo. Perché gli uomini di Dio vengono usati da Dio per l'edificazione della Chiesa. Ancora la Chiesa non c'era, ma per l'edificazione del popolo, per il bene di tutto il popolo di Dio. Ed Elia lo troviamo subito nei capitoli precedenti che viene chiamato da Dio niente di meno a chiudere il cielo affinché non piovesse per tre anni. E Dio lo usa ancora dopo questa fine, questo periodo di carestia affinché possa piovere di nuovo su tutto il territorio di Israele. È un uomo che viene usato dal Signore, lasciatemi dire che permette a Dio di usarsi della sua vita. Un uomo che sicuramente ha messo al primo posto il Signore. Ha rinunciato in qualche modo alla sua vita per ubbidire al Signore, per fidarsi di Dio, perché non è facile, fratelli, anche avendo fede, fidarsi totalmente di Dio. Non è facile perché i piani di Dio, Dio non ce li dice prima. È vero? Non so se a voi magari Dio ve l'ha detto prima un piano dettagliato, vi ha detto le tappe che vuole farvi fare. Non so se magari a qualcuno di voi il Signore ha fatto vedere già uno schema di quello che sarà la nostra vita e il nostro servizio. Ma in genere il Signore non lo fa. Ed è un fidarsi e affidarsi a Dio continuamente, ogni giorno. Possiamo vederlo con Abramo, possiamo vederlo con Isacco, con Giacobbe, lo possiamo vedere con Davide e lo possiamo vedere anche nella vita di Elia. Elia cammina perché Dio gli dice di camminare, va dove Dio gli dice di andare e lui non sa cosa gli aspetta, non sa che cosa Dio ha stabilito in quel luogo per la sua vita, non sa nemmeno che servizio deve offrire a Dio in quel luogo. Ora noi leggiamo la parola di Dio e conosciamo già quello che succederà ad Elia, conosciamo come andrà a finire, conosciamo che dopo Elia verrà Eliseo, conosciamo tutto quello che Dio ha fatto attraverso Elia e perché Dio ha mandato Elia in quel posto. Ma lui non lo sa e si muove con fede verso il piano di Dio. Ma possiamo sicuramente essere certi di una cosa, che quando arriva in un luogo, nel luogo dove Dio lo ha stabilito, Dio opera potentemente nella sua vita e compie miracoli straordinari e la benedizione che arriva quando arriva l'uomo di Dio non è solo per l'uomo di Dio ma è per tutto quel territorio, per tutti quelli che vengono a contatto con l'uomo di Dio. Il piano di Dio si manifesta con la gloria di Dio proprio attraverso gli strumenti che Dio usa. E quest'uomo arriva, arriva da quella vedua, vi ricordate? E i vasetti si riempiono d'olio, vi ricordate? E' un brano conosciuto, questi vasetti che non finiscono finché non è finito l'olio. E' un miracolo? Certo, è un miracolo straordinario, ma come arriva lì Elia? Conosce già questo miracolo? Conosce quello che accadrà? No, Dio lo manda in un luogo dove c'è una carestia. Lo manda in un luogo che lui non conosce e lo manda da una donna che non appartiene al popolo di Dio. E quindi non si aspetta nemmeno chissà che cosa Elia, ma quando arriva Dio scende con la sua potenza e noi possiamo ancora leggere ed essere edificati da un miracolo straordinario che nasce sì dalla potenza di Dio, è ovvio, è il Signore che compie i miracoli, non è Elia. Però questo miracolo nasce anche dall'ubbidienza di un servo che arriva dove Dio gli dice di arrivare. Signore, che non chiede perché, che non si mette a discutere con Dio. Signore, ma perché? Ma non è meglio una vedova di Israele? Ma non è meglio che tu mi mandi in un altro posto? Ma non è meglio che il mio percorso prenda un'altra direzione? Quante discussioni facciamo con il Signore che non servono a nulla perché è Lui che dirige i nostri passi e anzi voglio dirti che è Lui che tiene tutto sotto controllo, anche la nostra vita, anche quello che forse non riusciamo a capire, comunque se ci fidiamo del Signore è nel piano di Dio e alla fine arriverà una benedizione, non solo per la vita di Elia ma anche per la vita di questa donna. E man mano che cammina Elia può vedere la potenza di Dio attraverso la sua strumentalità, ma anche attraverso la sua ubbidienza, attraverso la sua fede. E arriva al punto Elia di spidare, vi ricordate, 450 profeti di Baal, li spida, ma non solo, li uccide. Vi ricordate sul Monte Carmelo succede questo straordinario fatto che è veramente straordinario. Immaginate 450 persone che vengono uccise da un uomo. 450 profeti che vengono uccisi da quest'uomo, da questo uomo di Dio, che non solo li spida in un sacrificio al loro Dio, in modo che il loro Dio possa scendere col fuoco. E il loro Dio non scende col fuoco, anche perché non c'è quest'altro Dio. Ma questi profeti si mettono, se vi ricordate, a invocare il nome di questo Dio, preparano un altare sul consiglio di Elia e poi si mettono a pregare e pregano che questo fuoco possa scendere dal cielo e ad un certo punto Elia comincia pure a prenderli in giro, se vi ricordate. Comincia a dire, ma forse è in viaggio, provate a gridare più forte. E loro gridano più forte. Forse sta dormendo, non vi sente, gridate più forte. E loro gridano più forte e poi cominciano a farsi del male a vicenda, come erano le loro usanze, dice la parola di Dio, fino a quando Elia dice, va bene, abbiamo capito che il fuoco dal cielo non scende, che il vostro Dio non vi ascolta, che il vostro Dio non c'è. Ora, se permettete, chiamo il mio Dio. Provo a chiamare il re dei re, il Signore dei signori, e preparano l'altare e lo riempiono tre volte d'acqua. Tutto il fossato viene riempito d'acqua. E quando viene invocato il nome del Signore scende il fuoco e questo fuoco consuma non solo l'altare ma anche l'acqua. Perché il nostro Dio è Dio. Perché quando Dio risponde, risponde e si vede. Perché il fuoco che viene dall'alto proviene dalla mano di Dio. È il fuoco che brucia la nostra offerta. E ancora oggi Dio risponde col fuoco. Ancora oggi non ti puoi aspettare una risposta diversa dal cielo se non la risposta che viene da Dio. Non c'è un altro Dio all'infuori del nostro Dio. Colui che risponde. Ecco perché nel popolo di Dio ci sono miracoli. Ancora oggi ci sono guarigioni. Chiamate di persone che ancora oggi lasciano ogni cosa per servire il Signore. Che ancora oggi sentono la voce di Dio. che ancora oggi gustano quel fuoco che quotidianamente scende e brucia la loro offerta. E così vengono uccisi questi 450 profeti. Che ci dicono che Elia non è un uomo pauroso. È vero. Un uomo che affronta 450 profeti da solo. Di sicuro non lo puoi chiamare un uomo pauroso. Un uomo che ha paura. Anzi, è un uomo che ha coraggio. È un uomo che non ha paura di affrontare i nemici di Dio. I nemici che si mettono contro il popolo di Dio. Contro Dio. Ma in questo brano che abbiamo letto sembra un Elia diverso. Un Elia che dice la parola vedendo questo. Un altro brano dice che ha paura. Preso da paura. Ma vedendo che cosa? Ma voi pensate che uccidendo questi uomini non abbia messo in conto di avere delle ritorsioni? Di avere contro questa regina Izebel? Voi pensate che Elia non sapeva di andare incontro a tutto questo? Non sapeva Elia che questa regina in qualche modo gliel'avrebbe fatta pagare? Eppure qui sembra che Elia sia preso da una paura strana. Dice vedendo questo è come se tutto ad un tratto quest'uomo si prende coscienza di quello che ha fatto e dice e ora ho paura. Chissà cosa succede. E mentre tutto rimane uguale fuori nella sua vita succede qualcosa. E nella sua mente, nel suo cuore che succede qualcosa. Fuori c'è aria di festa potremmo dire. Ha appena ucciso 450 profeti. È una vittoria per Elia. Avrebbe potuto cantare un cantico di vittoria al Signore. Avrebbe potuto dire Oh, abbiamo ucciso 450 profeti. E invece a una sola parola detta da questa regina, quest'uomo sembra aver paura. Sembra un uomo diverso. E a volte noi diciamo che la gioia che abbiamo proviene non dalle circostanze, ma da quello che vive dentro la nostra vita. È vero, lo diciamo spesso. Ma a volte anche la tristezza non proviene da fuori, ma proviene dalla nostra vita, dalle battaglie che a volte combattiamo proprio nella mente. E quest'uomo si trova a combattere probabilmente nella sua mente questa battaglia che lo mette a un angolo. Ad un certo punto pensa di essere solo. E questa solitudine avvolge la sua vita e lo rende fragile. E mentre fuori non è cambiato nulla. È tutto com'era ieri. È tutto com'era quando lui ha ucciso quei profeti. È tutto com'era prima. Non è cambiato nulla. Izebel è ancora la regina. Aqab è ancora il re. E questi profeti non ci sono più. E lui ha ripristinato l'opera di Dio. Ha fatto una grande cosa per il Signore, ma nella sua vita succede qualcosa che lo porta a desiderare la morte. A volte anche se fuori c'è il sole. Dentro piove. Avete mai provato a vedere quando c'è una tempesta? Sembra distante da noi perché è fuori. Ma a volte le tempeste sono nella nostra vita, fratelli. E non si vedono. Nessuno si accorge di quanto a volte soffriamo. Nessuno si accorge che nella nostra vita sta succedendo qualcosa perché per succedere qualcosa si deve vedere. Deve succedere fuori. Ci deve capitare qualcosa. Ma non è sempre così. Nessuno avrebbe immaginato che Elia si sentisse così. Solo. Dopo una vittoria. Desiderando persino la morte dopo aver fatto qualcosa di grandioso. Non so perché si sente così. Non so che succede nella vita di Elia ma a volte succede anche nella nostra vita. Siamo attaccati nella mente e delle battaglie sono così pesanti che siamo tristi e non sappiamo il perché. Che siamo angosciati anche. Che siamo in combattimento così forte nella nostra vita ma non c'è un motivo. Non c'è un perché. È il nemico che ci attacca e ci fa sentire soli anche se siamo in mezzo a tanta gente. E non riusciamo a spiegarlo. Perché finché ti succede qualcosa tu lo puoi anche spiegare. Sono triste perché mi è successo questo. Sono così abbattuto perché non ho potuto uccidere questi profeti. Sono ancora lì. Ancora fanno il culto ancora hanno l'altare ancora fanno di quest'idolo l'idolo della loro vita ancora deviano il popolo ma questi profeti non ci sono più eppure Elia è triste. Tanto da desiderare la morte. Quindi non è una tristezza passeggera è profonda ma non è successo nulla di diverso di quello che era successo il giorno prima e l'altro giorno ancora. Quello che succede a Elia a volte succede nella nostra vita che veniamo attaccati chiusi e il nemico ci lega e nessuno se ne accorge siamo soli e non se ne accorge nemmeno nostra moglie nostro marito i nostri familiari a volte neanche i nostri genitori si accorgono della battaglia che stiamo combattendo nella nostra vita all'interno e a volte piangiamo non ci facciamo vedere da nessuno non so se vi è successo di vivere queste battaglie ma penso di sì penso che ad ognuno di noi è successo di sentirsi soli anche se siamo circondati anche da persone che ci vogliono bene è qualcosa di personale qualcosa di così intimo che non riesci a spiegarlo perché non è una conseguenza di qualcosa che è successo nella nostra vita qui Elia è un vincitore eppure è un uomo triste un uomo che lascia il suo servo e si inoltra nel deserto con un obiettivo vuole morire chiede a Dio di morire espresse un desiderio il desiderio di morire un uomo di Dio un uomo che ha visto la potenza di Dio un uomo che ha visto la vittoria di Dio il fuoco scendere dal cielo e non era passato tanto tempo eppure questo non è bastato affinché quest'uomo potesse essere immune da questa battaglia che viveva lui non è riuscito nemmeno a raccontare quello che succedeva nella sua vita al suo servo non si è portato il servo no avrebbe potuto anche farlo vieni con me mettiamoci sotto quest'albero e ora io mi confido un po' con te perché voglio parlare voglio che questo dolore possa passare ma non è così lascia quest'uomo e si dirige solo sotto quell'albero perché il suo desiderio è farla finita ma proprio quando è arrivato forse alla fine delle sue forze non ha più forze questa battaglia lo ha stremato lo ha distrutto una battaglia che si gioca nella mente di Elia nel suo intimo non riesce a parlarne non riesce a risolvere questo problema e quando è tutto finito ormai si aspetta di ricevere questo dono da Dio che Dio lo possa chiamare arriva il Signore e arriva Dio con un angelo che lo toccò e gli disse alzati e mangia le forze gli arrivano dal cielo forse ti trovi anche tu in questa situazione ti trovi in questa difficoltà e stai aspettando che qualcuno ti dia ti tocchi e ti dia un po' di forza per continuare a camminare ma nessuno può darti questo tipo di aiuto questo aiuto arriverà dal cielo arriverà dal Signore a un certo punto Dio stesso ti darà le forze per continuare ad andare avanti e quando ancora lui è lì quelle forze non gli bastano la parola di Dio ci dice che l'angelo del Signore non è più un angelo notate ora è l'angelo del Signore è Gesù è una teofania è la manifestazione di Gesù cioè adesso è Gesù stesso che gli dice alzati devi continuare a camminare perché il tuo viaggio non è finito qui anzi il tuo viaggio è troppo lungo continua a camminare e così Elia prende forze e cammina ma non è finita la sua angoscia non è finita la sua tristezza Elia cammina perché Dio gli ha detto di camminare e cammina perché Dio gli dà le forze ma ancora è convinto di essere solo e dopo che sta alla presenza di Dio non l'abbiamo letto perché è troppo lungo però se lo leggete se continuate a leggere Dio si manifesta la sua vita la vita di Elia e dopo questa manifestazione Dio gli fa ancora la domanda e gli dice che fai qui Elia che fai e lui gli dice sempre la stessa cosa hanno demolito i tuoi altari sono rimasto solo non ce la faccio più è ancora in quella condizione Elia e la risposta di Dio è meravigliosa non gli dice dai coraggio dai che ce la fai Elia dai coraggio ritorna che sarà tutto bello no no gli dice il Signore lui gli spiega i motivi e il Signore non gli risponde poi gli dice va rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando vi sarai giunto ungerai a Zael e continua con degli ordini da fare praticamente la soluzione di Dio a questa sofferenza a questa solitudine vai e rimettiti a lavorare nell'opera di Dio vai e rimettiti a fare quello che facevi prima perché non è finito il tuo tempo perché non io non guardo alle tue debolezze tu continuerai a lavorare per me tu continuerai a fare quello che io ti dico perché è per la mia forza che tu vai avanti perché io non ho finito nella tua vita e forse il Signore ti risponde così questa sera continua ad andare avanti perché non sei solo ce ne sono ancora ancora altri uomini altre donne che servono il Signore e Dio gli dice vai avanti la forza la trovi mettendoti a servizio del Re dei Re e la forza la troverai mettendoti all'opera alzandoti lavorando per il Signore non è finito il tuo tempo anche se tu pensi che è tutto finito anche se pensi che nella tua vita ormai questa battaglia ti ha demolito ti ha distrutto ti ha fermato ti ha tolto tutto l'entusiasmo ma Dio ha la soluzione continua a camminare perché la stessa forza che avevi quando hai ucciso quei profeti io te la continuerò a dare e da lì a poco Elia va da Eliseo come il Signore gli aveva ordinato e poi sappiamo la storia e Eliseo prenderà il posto di Elia la storia di Dio e degli uomini di Dio continua quindi fratello sorella coraggio se ti trovi in questa situazione sembra ti sembra di essere solo e di essere sola e di non poter nemmeno spiegare perché stai vivendo questa battaglia perché non c'è un motivo non c'è una spiegazione non puoi confidarti con qualcuno perché rischi che quel qualcuno non ti capisca ma che c'hai è capitato che qualcuno vi dica ma che c'hai hai tutto sì ma io sto male ma hai tutto non ti è successo nulla sei in vita hai un bel lavoro il Signore ti ha salvato eppure quella battaglia ti sta letteralmente divorando all'interno e sembra che non c'è soluzione ma la soluzione arriva dall'alto presto Gesù stesso ti libererà arriverà lui e ti toccherà e tu prenderai nuove forze ti accorgerai quando i tuoi occhi verranno aperti dal Signore che non sei solo che non sei sola l'aiuto verrà dall'alto perché il tuo cammino non è finito nel Signore Amen fratelli alziamoci in piedi e adoriamo il nome del Signore Alleluia